Allora, Vicepresidente Lucia De Robertis, da quasi un anno lei ricopre questo incarico di Vicepresidente. Un bilancio, anzitutto, è soddisfatta del lavoro svolto? Sì, direi di sì perché è un bel ruolo, non solo di rappresentanza ma anche di sostanza, che è un po' quello che piace di più a me, la gestione dell'Aula, i rapporti con i consiglieri. Fa piacere ed è una bella soddisfazione quando poi a fine consiglio hai rispettato i consiglieri, hai rispettato il regolamento, insomma hai fatto il tuo. All'interno di questi uffici di Presidenza lei segue i rapporti tra Giunta e Consiglio. Come sono questi rapporti e secondo lei in che cosa possono essere eventualmente cambiati e migliorati? Devono essere cambiati e migliorati perché effettivamente i primi mesi della legislatura noi abbiamo avuto in Consiglio tantissimi atti e tantissimi provvedimenti che a parere nostro non davano la possibilità ai consiglieri di maggioranza ma soprattutto di minoranza di esaminare gli atti in maniera corretta perché ne arrivavano moltissimi, avevamo commissione con 10-15 punti all'ordine del giorno insomma soprattutto perché abbiamo dovuto fare le corse per l'adeguamento per le province perché passavano le competenze e quindi andavano modificate moltissime leggi quindi un po' perché dovevamo prenderci la mano tutti i nuovi consiglieri, i nuovi assessori un po' perché erano moltissimi gli atti e abbiamo vissuto momenti un po' di difficoltà ora proviamo a riorganizzarci con gli assessori. Lei rappresenta anche il Consiglio regionale toscano all'interno della conferenza delle assemblee legislative europee. A cosa serve questo organismo? E poi soprattutto in una fase critica come quella attuale visti anche gli episodi di Bruxelles che ruolo possono svolgere questi organismi? L'organismo è molto importante perché ci siamo confrontati alcune volte ci sono delle buone prassi, delle buone regole che anche gli altri consigli regionali hanno pur ognuno nella particolarità delle proprie nazioni naturalmente però possiamo scambiarci delle idee, possiamo scambiarci soprattutto possiamo finalmente essere Europa tutti insieme io credo che soprattutto alla luce del fatto anche degli episodi a cui si riferiva lei bisogna far fronte comune, a farsi dai servizi segreti, da un organo di polizia unico cioè se l'Europa deve essere, deve essere non solo per le sanzioni piuttosto che per la cartina geografica ma deve fare delle politiche europee soprattutto perché il mondo abbia il sentore che siamo tutti insieme Parlando del regolamento del Consiglio regionale è in corso la revisione, quali sono le novità principali che pensate di introdurre? Noi dobbiamo introdurre, sveltire i tempi Guarda, questo è secondo me un punto importantissimo perché a volte se ne perdono un po' si perdono un po' i tempi per la lungaggine degli interventi proprio a proposito dell'Europa dobbiamo introdurre dei tempi europei perché se vogliamo in 3-4 minuti si dicono tante cose intelligenti rispetto ai tanti minuti che si perdono bisogna introdurre però anche delle norme che non consentano a chi non vuol farci svolgere il nostro ruolo di evitare quello che è successo per esempio durante la legge sanitaria cioè noi siamo rimasti abbastanza inchiodati a un ostruzionismo che è fino a se stesso perché io credo che la minoranza debba fare il suo ruolo evidentemente ma anche in maniera costruttiva ma anche non solo per far perdere tempo a tutti cioè questo non lo consentiremo e modificheremo il regolamento in questo senso Arezzo è la sua città quali sono le istanze aretine che lei sta portando avanti in Consiglio? Senti Arezzo ora non vive un momento straordinario non ci aiuta la banca non ci aiuta quello che è successo a me poi che faccio parte del partito che esprimeva il candidato sindaco che non ha vinto quindi è un po' difficile ti dico la verità essere a Firenze con un capoluogo che però insomma noi dobbiamo comunque rispettare i nostri cittadini a volte i miei amici di partito mi dicono ah ma no ma te devi non fare io questo non ce la faccio sono il Consiglio regionale rappresento chi i miei elettori rappresento sia chi mi ha votato che chi non mi ha votato a prescindere che sia di centrodestra di centrosinistra quindi comunque collaboriamo con tutte le amministrazioni del territorio in primis con il capoluogo Benissimo grazie Grazie a voi